Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città, come sempre qualche consiglio per la serata, cominciamo con la musica, seconda serata a Torino per i Negranaro per il loro Casa 69 Tour, questa sera come anche ieri sera alle ore 21, al Palo Olimpico Isozaki, la band Salentina sale sul palcoscenico. Continuiamo con il teatro, Amlis, saggio sulla fine di una civiltà, uno spettacolo che ha debuttato nel 2009 con la sua prima parte nel carcere di Volterra, arriva oggi a Torino nella sua seconda parte, intitolata Alice nel Paese delle Braviglie, alle ore 20 e 30 alle Limone Fonderie Teatrali. Finiamo con il cinema, 80 anni nel cinema della famiglia Ventavoli per festeggiare la ricorrenza, il cinema romano propone una manifestazione a ingresso gratuito che prevede proiezioni e incontri nel corso di tutto il mese di ottobre, questa sera alle ore 18, a ingresso gratuito, è possibile rivedere il film di Woody Allen del 1979, Manhattan. Per questo oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso, ci vediamo domani pomeriggio come sempre con le notizie culturali dal web della città, vi auguro una buona serata. Grazie.